Ciao a tutti e bentornati al corso d'italiano. Oggi parliamo dei verbi. Se vi ricordate, se avete visto la lezione precedente, abbiamo parlato del verbo abitare. Io abito, so abiti, lui abita, noi abitiamo, voi abitate, loro abitano. Oggi parliamo dei verbi al presente. In italiano esistono tre tipi di verbi. Verbi che finiscono per are, scusate, verbi che finiscono per ere e verbi che finiscono per dire. Partiamo dai verbi che finiscono per are. Un altro esempio, parlare. Ripeto, ripeto, abbiamo già fatto abitare, adesso ripeto. Parlare. Io parlo, vedete, are non c'è più, io parlo, tu parli, lui lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Abbiamo un esempio, io parlo italiano, arabo, francese, inglese, spagnolo e un po' di tedesco. Non è vero, evidentemente. E tu che lingue parli? Che lingue parli? Potete dire, ad esempio, io parlo inglese, parlo tedesco, parlo spagnolo, parlo inglese, parlo un po' di italiano anche. Abbiamo adesso i verbi che finiscono per ere. Non c'è una grossa differenza. Io vendo, vendere, scusate, il verbo vendere. Io vendo, tu vendi, lui lei vende, noi vendiamo, voi vendete e che loro vendono. Attenzione, qui...